laudentur jesus et maria carissimi amici e amiche bentornati al ciclo di catechesi dedicato a meredì magdala giunto alla puntata numero 27 siamo già abbastanza abbastanza inoltrati in questo ciclo di catechesi non è molto molto lontana la conclusione anche se abbiamo ancora un pochino da 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 leggere e da meditare un po oggi affronteremo un argomento abbastanza bello che farà emergere ancora diversi aspetti avvincenti interessanti sia della personalità di maria di magdala che della fede di questa straordinaria donna quindi io non mi dilungherei eccessivamente in soverchi e introduzioni preferendo procedere immediatamente alla lettura del testo come sempre durante la lettura nei momenti che appaiono opportuni farò qualche piccola pausa per per commentare appunto quello che stiamo leggendo il suo credo mentre si approssima la passione sottotitolo dopo una bufera di dolore provocata dal riottoso giuda escariota gesù raggiunge le donne che ha fatto convocare e che lazaro ha introdotto nella sala bianca la bella sala una di quella di vita e banchetti bianca nelle pareti e nei soffitti bianca nelle tende pesanti nelle tappezzerie che coprono i sedili nelle lastre di mica o alabastro che fungono da vetri alle finestre e da lumiere è piena del cicaleccio delle donne una quindicina di donne che parlano tra loro non è cosa da poco ma appena gesù appare sulla soglia spostando la tenda pesante si fa un silenzio assoluto mentre tutte si alzano e si inchinano col massimo rispetto la pace a voi tutte dice gesù con un dolce sorriso della appena cessata bufera di dolore nessuna traccia è sul suo volto che è sereno luminoso pacifico come nulla di penoso fosse accaduto o stesse per accadere con piena conoscenza da parte di lui la pace a te maestro siamo venute tu hai mandato a dire con quante donne sono con giovanna e io ti ho ubbidito era da me elisa con me la tengo in questi giorni e da me era costei che si dice tua seguace era venuta a cercare di te perché non si ignora che io sono la tua felice discepola e anche valeria è con me nella mia casa da quando sono nel mio palazzo con valeria era plautina venuto a visitarla con loro era questa valeria ti dirà di lei più tardi è venuta annalia avvisata dal tuo del tuo desiderio e questa giovinetta sua parente credo ci combinammo per venire ne trascurammo niche è così bello sentirsi sorelle in un'unica fede in te sperare che anche quelle che ancora sono di un amore naturale maestro salgano più oltre come ha fatto valeria dice giovanna so guardando plautina che è rimasta all'amore naturale allora io non so se è il caso forse sì perché per chi non conosce qualcuno non conosce bene gli scritti di maria valtorto a non le ritorna qui sono menzionate una montagna di donne tra cui elisa era una amica della madonna una vecchia compagna forse 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 addirittura una compagna del 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 tempio però ricordo questo particolare anche io insomma ho letto tante volte l'opera ma sono veramente tanti personaggi che compaiono giovanna era la moglie giovanna nominata e menzionata nei vangeli perché era la moglie di cusa e cusa era amministratore di erode nonché suo di erode antipa nonché suo diciamo compagno da sempre amico da sempre mentre queste valeria plautina sono due pagane peraltro amiche di claudia procula che era la moglie di ponzio pilato c'era questo gruppetto di donne pagane che gesù coltivava anche con dei colloqui privati con queste tre e poi c'è annalia annalia è una giovinetta che fu la prima secondo l'opera ovviamente dopo la madonna dopo la madonna a fare il voto di verginità e addirittura ebbe la grazia da parte del signore di morire in un'estasi d'amore prima proprio al ridosso qualche giorno prima o addirittura giorno prima ricordo il particolare ma siamo su queste frequenze della passione ha avuto la grazia di non vedere il suo amato sposo soffrire tutto quello che avrebbe dovuto soffrire la nostra salvezza e poi c'è niche che credo nelle puntate precedenti ho già spiegato chi era niche è quella che la tradizione cattolica ha conosciuto nella via crucis con il nome di veronica voi sapete che veronica non può essere il vero nome di quella donna perché veronica viene dal da una parapresi greca cioè veronica significa vera icona cioè vera effigie cioè quello che lei ha fatto quindi o meglio quello che gesù ha fatto sul suo gesto imprimere il suo volto sul velo che che questa donna le ha portato per sterges il viso durante la passione è stato diciamo così il nickname il soprannome ma il suo nome reale era niche così abbiamo un pochino capito che erano tutte quante queste donne no adesso posso proseguire la lettura qui gesù risponde a giovanna che ci sta un pochino dolcemente lamentando di alcune di queste discevole tra cui queste pagane plautina dice che è rimasta all'amore naturale quindi che avevano una grande stima nei confronti di gesù e infatti lo chiamavano il filosofo per comunque gesù anche a chi non credeva che fosse figlio di dio evidentemente se una persona era semplicemente di cuore e di mente aperta non poteva fare non fare una grande impressione o poi teniamo presente che è bellissimo seguire i dialoghi di gesù con queste con queste donne perché cioè gesù come dire era umide e ha fatto l'umide cioè gesù è il logos divino quindi quando queste cominciano a parlargli per pensando magari di fare le raffinate o anche di dare qualche informazione che lui non avesse dei grandi filosofi classici tipo 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 socrate tipo platolo tipo aristotele gesù sempre con quella sua delicatezza carità modo non mortificante ecco dialoga con loro e si capisce benissimo insomma dal dialogo evidentemente riconosceva benissimo questi a questi personaggi no ecco che gesù risponde a giovanna che è un po si lamenta un po ecco di queste che ancora non riescano a fare lo step di passare dal filosofo al figlio di dio no i diamanti si formano con lentezza giovanna occorrono secoli di fuoco si porto non occorre aver fretta mai e non sconfortarsi mai giovanna qui gesù dice una grandissima verità e dobbiamo tutti tenerla presente perché le opere di dio oltre che a essere con ci volta che si pongono dei mezzi miracoli perché non dei mezzi a volte di dei super miracoli sono generalmente cose che richiedono tempo 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 le anime le persone vanno forgiate vanno potate e a volte vanno provate col crogiolo di tribolazioni di travagli eccetera prima che siano formate date ad essere quel diamante che più o meno nascosto in tutte le anime ma ci sono certamente alcune anime in cui sto diamante brilla di luce particolare no quelle che la tradizione spirituale ascetica ha chiamato le cosiddette anime lette quindi Gesù dice questa cosa importante non occorre aver fretta mai e non sconfortarsi mai giovanna questo possiamo anche mutatis mutandis come dire trasponderlo al governo che dio ha sulla storia specialmente a me vengono in mente i tempi di oscurità che ormai cominciano a essere lunghi da un lato si è consapevole che da un momento all'altro potrebbe succedere chissà che chissà che cosa dall'altro in certi momenti sembra che sta pesantezza insomma sta cappa che ci portiamo dietro sembra quasi che non debba finire mai no non bisogna mai farsi prendere da questi pensieri perché dio ha sempre in mano le situazioni tutto concorre al bene di di coloro chiamano dio e tutto andrà a finire per il meglio sempre per coloro che amano dio e non in maniera fatalistico deterministico destinistica ha sicuramente a tra finire bene no per gli empi non va a finire bene la via degli empi andrà in rovina si legge nella sagra scrittura va a finire in bene per i giusti e per i santi quindi per quelli che 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 cercano di di camminare in un certo modo no e giovanna ribatte e quando un diamante torna a cenere risposta di gesù sempre intrisa di savienza segno è che ancora non era diamante perfetto ci vuole ancora pazienza e fuoco ricominciare da capo sperando nel signore ciò che sembra un fallimento la prima volta somente si muta in trionfo la seconda o la terza o la quarta e anche più io sono stato un fallimento molte volte ma infine tu hai trionfato la boni eccola che hai capito chi è intervenuta no dice maria di magdala con la sua voce d'organo dal fondo della sana maria è contenta ogni volta che può avvirirsi ricordando il passato sospira marta che lo vorrebbe cancellato dal ricordo di ogni cuore in verità sorella che è così dice maria sono contenta di ricordare il passato ma non per avvirmi come tu dici per salire ancora spinta dal ricordo del male commesso e dalla riconoscenza per colui che mi ha salvata e anche perché chi tituba per se stesso per qualche essere a lui caro possa rincuorarsi e giungere a quella fede che il mio maestro dice che sarebbe alta a far muovere le montagne e tu la possiedi te beata tu non conosci il timore sospira giovanna così mite e timida e pare ancor più tale se la si confronta alla maddalena allora qui bisogna necessariamente fermarsi perché maria maddalena ha detto delle cose veramente importanti chi è stato peccatore deve ricordare i peccati della vita passata non per avvilirsi come pensa Marta né tantomeno per farsi venire gli scrupoli o le idee malsane Dio mi avrà perdonato oppure non perdonato eccetera eccetera no ma per anzitutto crescere sempre di più in gratitudine e in riconoscenza verso chi ti ha perdonato perché il perdono dei peccati facciamo sempre bene attenzione non è un diritto noi non abbiamo nessun diritto di essere perdonati è un atto di bontà di clemenza e di misericordia di nostro signore che non è mai dovuto non è che siccome lui è misericordioso allora è obbligato a perdonarmi ma dove sta scritta questa cosa qui? non sta scritto da nessuna parte e dall'altro bisogna anche ricordarsi primo chi si è stati che non ci fa mai male e secondo il ricordo degli errori o anche dei peccati della vita passata tutti e due serve a farci mettere in pratica quel grande ammaestramento che non bisogna mai dimenticare cioè i romani dicevano storia magistra vite cioè la storia maestra di vita non soltanto la storia la storia quindi la storia dell'umanità ma anche la nostra storia noi dobbiamo imparare dai peccati commessi e dagli errori commessi certamente per accidenza dai peccati commessi per esempio ricordando come ho fatto io a degradarmi ad abilirmi in quel modo quali leve quali quali molle ha ha innescato l'azione satanica il diavolo quali trappole mi ha come dire ordito per farmi cadere in errori quali sono stati i suoi tranelli quali sono stati i miei punti deboli su cui ha fatto leva questo perché non riaccada più quindi da un lato cresce la riconoscenza verso il Signore e l'amore verso di Lui dall'altro cresce l'umiltà perché mi ricordo chi sono e se anche adesso per grazia di Dio sto lontano da tanti peccati siccome li ho fatti muto devo stare d'accordo non posso vantarmi di nulla terzo imparo assimilo ricordo e trago scuola di vita quarto altra cosa molto importante questo può essere di edificazione per il prossimo perché se un peccatore diventa un fedele e un fedele ardente come era Maria di Magdala vuol dire che c'è speranza per tutti ok quindi confessioni pubbliche è opportuno evitarle perché le confessioni figlioli miei cari si fanno nel segreto confessionale io la tutela della nostra riservatezza è sempre molto importante cioè in confessionale ci si deve denudare d'accordo perché i peccati bisogna chiamarli per nome cognome indirizzo numero di telefono sito web email scala interno tutto ma siccome queste non sono cose edificanti ma sono cose degradanti in pubblico non vanno dette per nessun motivo mai uno può dire certo io nella mia vita sono stato lontano da Dio sono stato un peccatore non serve entrare troppo nei dettagli se si accorge che c'è davanti magari qualcuno che ne sta facendo tante e che magari è un po' titubante dico ma ormai la vita è finita ma che c'è con tutto quello che ho fatto figuro se Dio mi perdona allora in quel caso può essere positivo dare la propria testimonianza quindi io sono stato non sempre amico del Signore anzi anch'io insomma dal canto mio ho avuto il mio tempo di lontananza da Dio ma mi ha usato misericordia e guarda come sto adesso quindi c'è anche questo aspetto ulteriore che non è certamente da trascurare no? ho sentito adesso la risposta no? che Maria di Magdala dà all'intervento di Giovanna dice tu la possiedi te beata tu non conosci il timore ecco la risposta di Maria Maddalena non lo conosco il timore questa è una donna coraggiosa non è mai stato nella mia natura umana ora da quando sono del mio salvatore non lo conosco più neppure nella mia natura spirituale tutto ha servito per aumentare la mia fede può forse una che è risorta come io e che vide risorgere il suo fratello dubitare più di nulla no nessuna cosa mi farà più dubitare sicché Dio è con te ossia Teco è i rambi ma egli dice che presto ci lascerà che sarà allora la nostra fede ossia la vostra fede perché io ancora non sono penetrata al di là dei confini umani dice Plautina sentite che risponde Maria di Magdala la sua presenza materiale o la sua materiale assenza non le derà la mia fede non temerò non è superbia la mia è conoscenza di me se le minacce del sinedrio si dovessero avverare ecco io non temerò proseguo per questo dialogo che è vincente è meglio arrivare fino alla fine prima di intervenire nuovamente la pagana obietta ma che non temerai che il giusto sia giusto questo temere anche io non lo avrò lo crediamo di molti saggi dei quali gustiamo la sapienza direi dei quali ci nutriamo con la vita del loro pensiero dopo che da secoli sono scomparsi ma se tu insiste Plautina io non temerò neppure per la sua morte la vita non può morire è risorto Lazzaro che era un misero uomo non per sé è risorto gli viene obiettato ma perché il maestro gli ha evocato lo spirito dall'oltre tomba opera che solo il maestro può fare ma chi evocherà lo spirito del maestro se il maestro sarà ucciso sentite che discorsi no? chi? risponde Maria Maddalena chi? egli ossia Dio Dio da se stesso si è fatto Dio da se stesso si può risuscitare Dio sì il dialogo è sempre tra Plautina e Maria Maddalena quindi non evito di dire la continuazione per non appesantire cercando di far capire che sto cambiando interlocutore mentre leggo quindi Dio sì nella vostra fede Dio da se si è fatto è già arduo metterlo per noi che sappiamo gli idee venire l'uno dall'altro per divini amori per sconci i reali amori devi dire la interrompe in ruenta Maria di Magdala vedete la grande peccatrice lussuriosa convertita come alza subito le antenne quando si va in quella che un tempo era stata la sua tra virgolette materia in cui era esperta come vuoi concilia Plautina e sta per finire la frase ma Maria di Magdala ancora la precede e dice ma l'uomo tu vuoi dire non può da se risuscitarsi ma egli come da se si è fatto uomo perché nulla è impossibile al santo dei santi così egli da se darà a se comando di risorgere tu non puoi capire tu non conosci le figure della nostra storia di Israele egli e i suoi prodigi sono in quelle e ogni cosa si compirà così come ha detto io credo io credo in anticipo Signore tutto credo che tu sei figlio di Dio e il figlio della Vergine che tu sei ragnello di salute che tu sei il Messia Santissimo che tu sei liberatore e universale che il tuo regno non avrà fine e confine e infine che la morte non prevarrà su di te perché la vita e la morte Dio le ha create e gli sono soggette come tutte le cose io credo e se grande sarà il dolore di vedere te sconosciuto e vi di peso più grande sarà la mia fede nel tuo essere eterno io credo in tutto quanto è detto di te credo in tutto quanto tu dici credo ho saputo credere anche per Lanzaro unica che sapessi ubbidire e credere unica che sapessi reagire a quegli uomini e a quelle cose che mi volevano persuadere a non credere solo al limite presso la fine della prova ho avuto uno smarrimento ma essa durava da tanto e non pensavo più che neppure tu maestro benedetto potesti accostarti al Golal dopo tanti giorni della morte ora non dubiterei più neppure se in luogo di giorno un sepolcro dovesse essere riaperto per restituire la sua preda dopo mesi che essa è nel suo ventre oh mio signore io so chi tu sei il fango ha conosciuto la stella Maria gli si è accasciata ai piedi sul suolo marmoreo non più veemente ma mite adorante nell'espressione del volto alzato verso Gesù le ha detto appunto io so chi tu sei e Gesù parla e le ribatte chi sono? risposta colui che è sapete che significa colui che è no? gli sta dicendo Yahweh è il nome di Dio questo sei l'altra cosa la persona umana è la veste la necessaria veste messa sul tuo splendore e sulla tua santità perché essa potesse venire fra noi e salvarci ma tu sei Dio il mio Dio e si getta giù a baciare i piedi di Cristo e sembra non possa staccare le labbra dalle dita sporgenti dalla lunga veste di lino davanti a tutti ah io proprio nei confronti di questa anima di questa creatura ho proprio un'ammirazione estrema alzati Maria dice Gesù tieni sempre forte a questa tua fede e alzala come una stella nelle ore della burrasca perché i cuori gli si affissino e sappiano sperare quello almeno allora qui non c'è molto da commentare perché queste robe si commentano da sole però qui veramente è tantissima roba e soprattutto è tantissima roba il commento conclusivo di Gesù tieni sempre a questa tua fede e alzala come una stella nelle ore della burrasca la fede amici miei non si vede nel tempo della prosperità nel tempo della diciamo della della pace nel tempo della della tranquillità quando 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 le cose vanno bene la fede si vede nella burrasca ricordate l'episodio evangelico della barca in tempesta Gesù cammina sulle acque in tempesta chiama pietro e pietro cammina sulle acque a un certo punto però comincia a dubitare e affonda e Gesù che cosa gli dice uomo di poca fede perché dubitato chi dubita durante la tempesta vuol dire che la fede non ce l'ha come l'esempio che ha fatto prima Gesù del diamante è un diamante che ancora mi sta a cenere non è un buon diamante pazientiamo ricominciamo il lavoro nell'attesa che diventi diamante la nostra fede si vede nei tempi di burrasca quando arrivano le burrasche sentite che dice che dice Maria di Magdala morirà morirà io continuerò a credere non lo vedrò più con gli occhi io continuerò a credere io credo in anticipo tutto credo e qui torna torna in mente l'inno alla carità perché tutto crede Maria di Magdala cosa le disse Gesù e sono perdonati i suoi peccati perché ha molto amato vi ricordate l'inno alla carità quando San Paolo conclude l'inno alla carità che è la carità di cui si parla lì non è l'amore del prossimo ma la carità è l'amore di Dio la carità tutto copre tutto crede tutto crede la fede degli innamorati è tanta roba figlioli migari chi veramente ama il Signore ha una fede a prova di bomba ha la fede che sposta le montagne veramente le sposta sul serio non nel senso che io mi affaccio dalla finestra e vedo i monti dei pini vedo sezze e gli dico vattene al posto di maenza d'accordo questo non serve a niente non serve ma le montagne sono quelle difficoltà quelle prove apparentemente insuperabili sapete che la montagna rappresenta un ostacolo insurmontabile sapete che ancora la gente gli storici vanno a chiedersi come ha fatto Annibale a passare le Alpi cioè a quei tempi no? perché l'Italia è stata protetta bene insomma dalle incursioni con le Alpi però le ha passate quindi spostare le montagne significa che tu qualunque bordata tempesta tribolazione la superi e guardate che molti non la superano manco per niente crollano crollano sapeste quanta gente se noi poveri ripeti i contatti ah è successo questo è successo quest'altro ah no ma adesso con quest'ultimo che è successo mi sento sotto un treno sto perdendo la fede sto vacillando ma anche no ma anche no noi dobbiamo attenderci da queste cose sta scritto molte sono le prove che attendono il giusto ma da tutte ero libero al Signore non date retta a nessuno che vi annunci un cristianesimo come dire all'acqua di rose dove si va in paradiso su un'autostrada tipo quella degli Stati Uniti a 4 a 6 o 8 corsie ma non esiste proprio non sta scritto da nessuna parte anzi lo maggiorno è scritto che larghe la porta spaziosa è la via che conduce alla perdizione e ci vanno quasi tutti invece stretta la porta è angusta è la via che conduce alla vita basta leggere la lettera agli amici delle croce di San Luigi Marevignon da Montforto dice c'è questa via impervia stretta su sto monte ripido piena di spine piena di sassi non c'era quasi nessuno uno sparuto gruppo di coraggiosi eh questo è allora riprendo la lettura se no ecco non facciamo in tempo a chiudere il capitolo poi si volge a tutte il nostro divino maestro e dice vi ho chiamate perché nei giorni futuri poco potremo vederci e con pace il mondo ci sarà intorno oh e i segreti dei cuori hanno un pudore più grande di quello dei corpi oh questa è una grandissima verità i segreti dei cuori hanno un pudore più grande di quello dei corpi non sono il maestro oggi sono l'amico con la maiuscola non tutte fra voi avete speranze o timore da dirmi ma a tutte piaceva vedermi con pace ancora una volta e io vi ho chiamate voi fiori di Israele del nuovo regno e voi fiori dei gentili che lasciano il luogo delle ombre per entrare nella vita tenete questo nel cuore per i giorni futuri che il vostro onore al perseguitato re di Israele all'innocente accusato al maestro non ascoltato tempera il mio dolore io vi chiedo di stare molto unite voi di Israele voi che siete venuti in Israele voi che venite verso Israele le une soccorrano le altre le più forti di spirito soccorrano le più deboli le più sapienti quelle che poco sanno o non sanno affatto e solo hanno desiderio di saggezze nuove di modo che il loro desiderio umano per la cura delle sorelle più progredite evolva in desiderio sopranaturale di verità siate una potenza divina ad operare il mutamento per secondare una volontà molto buona non fatevi stupore se in quelle che vengono da altre religioni vedete arresti nel progredire e talora anche ritorni sulle vecchie vie abbiate presente che lo stesso Israele nel suo comportamento verso di me e non pretendete dalle gentili la rendevolezza e la virtù che Israele non ha saputo non ha voluto dire verso il maestro mi permetto di fare ecco una piccola sottolineare due cose prima di proseguire primo che i segreti dei cuori hanno un pudore più grande di quello dei corpi ecco l'importanza della riservatezza della tutela della anche propria privacy che non deve essere noi non soltanto non dobbiamo permetterci mai di lederla torno a ridire una cosa che ho già detto tante volte ma tanto continuo continuerò perché ci sono vizi molto diffusi non si fanno domande dirette che riguardano gli affari del prossimo mai d'accordo gli affari propri sono condivisi solo su libera iniziativa del diritto del diretto interessato quando viene fatta una domanda diretta è lecito rispondere che faccio lo dico in inglese eh these are none of your business non sono affari tuoi magari non proprio così perché in italiano suona un po' suona un po' però bisogna far capire e quindi non permettere che altri si facciano come dire facciano indebite intromissioni fermarle non farle e però nemmeno autorizzarle come dire aprendo i nostri cuori in maniera sconsiderata amici cari eh a quasi cinquanta quanti anni sono? quasi cinquantatre anni di vita e quasi vent'anni di sacerdozio eh ho imparato che prima di aprire il cuore a qualcuno bisogna pensarci non una volta ma cinquecento volte e quel qualcuno prima di meditare l'apertura del mio cuore va approvato come fa Dio con noi si diventa amici di Dio solo dopo aver superato le prove no? cosa dice la scrittura Abramo solo dopo molte tribolazioni divene l'amico di Dio io prima di chiamare una persona amico devo averlo provato non si può dare fiducia come dire sconsiderata perché se questo si fa purtroppo ahimè io ho esperienza di questo non è che si paga si paga carissimo si paga quindi dico queste cose appunto per aiutare dall'alto dell'esperienza vissuta ecco perché specialmente oggi con il dilagare dei social c'è la tendenza come dire a mettersi a mostrarsi in pubblico a volte anche a non vorrei usare espressioni un po' troppo feriali quindi a a mettersi a nudo ecco quasi con una sorta a volte anche di malsano esibizionismo ma anche a volte semplicemente per una ricerca di come dire di stima di considerazione di affetto è endemica è ha assunto diciamo così proporzioni fuori del comune questa non è una cosa che va bene uno secondo non si muta l'abito morale dell'oggi al domani se non in casi eccezionali cioè le persone non cambiano di botto può succedere se c'è punto primo una potenza divina ma che intercetta una volontà molto buona ma le buone volontà purtroppo quindi non quelle molto buone così e così amici miei cari noi dobbiamo sempre avere una grande speranza ma purtroppo anche qui il ministero sacerdotale in cura d'anima un pochino forma e forgia non consentendo di farsi illusione è difficile che una persona cambi realmente è possibile ma è difficile e la difficoltà aumenta in maniera proporzionale all'aumentare dell'età e ovviamente aumenta in maniera proporzionale al tasso di superbia nota o come quasi sempre accade ignota che ha il soggetto interessato cioè che si pensa anche se non lo dice ovviamente di essere nel giusto di non avere nulla da correggere e che gli sbagliati io l'ho sbagliato c'è sempre degli altri proseguo la lettura sentitevi sorelle le une delle altre sorelle che il destino ha riunito intorno a me in quest'ultimo tempo della mia vita mortale non piangete e che vi ha riunite prendendovi da luoghi diversi perciò con idiomi e costumi diversi che rendono un poco difficile comprendersi umanamente ma in verità l'amore è un unico linguaggio ed è questo fare ciò che l'amato insegna e farlo per dargli onore e gioia ricordiamo bene queste parole fare ciò che l'amato insegna e farlo per dargli amore e gioia onore e gioia ecco in questo potete comprendervi tutte e quelle che più capiscono scusate aiutino le altre a capire poi in futuro in un futuro più o meno lontano in circostanze diverse tornerete a dividerli per le regioni della terra parte tornando alle regioni natie e parte andando in un esilio che non peserà perché quelle che lo subiranno saranno già giunti a quella perfezione di verità che farà loro comprendere che non è l'essere condotte qui o là che costituisce esilio dalla patria vera perché la vera patria è il cielo perché chi è nella verità è in Dio e ha Dio in sé e dunque è già nel regno di Dio e il regno di Dio non conosce frontiere ne esce da quel regno che da Gerusalemme verrà per un esempio portato in Iberia o in Pannonia o in Gallia o in Illiria sempre sarete nel regno se resterete sempre in Gesù se in Gesù verrete qui Gesù sta parlando ovviamente non lo dice a Maria di Magdala e a Marta perché entrambe sono andate a Marsiglia come vedremo Maria a fare una vita da eremita penitenzi in una grotta Marta a radunare intorno a sé alcune sante donne e a dar vita a quella sorta di prima comunità monastico religiose anche se non ancora istituzionalizzate quindi a un figlio di Dio non importa nulla cioè dove mi trovo io oggi mi trovo a Sermoneta domani mi troverò che ne so in Africa in Belgio va bene se Dio vuole questo si va non c'è nessun problema non è questo tanto la patria che io attendo è il cielo la patria che noi attendiamo è il cielo l'importante è stare al nostro posto cioè dove Dio vuole che stiamo adesso e per questo preghiamo sempre al Signore bene io sono venuto a radunare tutte le pecore quelle del greggio paterno e quelle di altri e anche quelle senza pastore selvatiche selvagge più ancora che selvatiche sprofondate in tenebre così oscure da non permettere a loro di vedere neppure no iota non di legge divina ma anche di legge morale genti sconosciute che attendono di divenire note allora che Dio destina per questo e che poi entreranno a far parte del greggio di Cristo quando? oh anni o secoli sono pari rispetto all'Eterno ma voi sarete le anticipatrici di quelle che andranno o quei pastori futuri a raccogliere nell'amore cristiano pecore agnelli selvaggi per condurli nei pascoli divini e vostro primo campo di prova siano questi luoghi il rondinino che leva l'ala per il volo non si getta subito alla grande avventura tenta il primo volo dalla gronda alla vite che ombreggia la terrazza poi torna al nido e nuovamente si lancia alla terrazza oltre la sua e ritorna e poi di nuovo più lontano sinché sente farsi forte il nervo dell'ala e sicuro il suo orientamento e allora gioca coi venti gli spazi e va e viene garrendo inseguendo gli insetti sfiorando le acque risalendo verso il sole sinché all'epoca giusta apre sicuro le ali a lungo volo per le zone più calde e ricche di nuovo cibo né teme di vari cari mari esso tanto piccolo un punto di acciaio brunito sperso fra le due immensità azzurre del mare e del cielo un punto che va senza paura mentre prima temeva il breve voletto dalla gronda al tralcio fronzuto un corpo nervoso perfetto che fende l'aria come una freccia e non si sa se sia l'aria che lo trasporta con amore questo piccolo re dell'aria o se sia esso il piccolo re dell'aria che con amore solchi i suoi domini chi pensa vedendo il suo volo sicuro che sfrutta venti e densità d'atmosfera per andare più veloce al suo primo goffo starnazzante volo pieno di paura così sarà di voi così di voi sia di voi e di tutte le anime che vi imiteranno non si diviene capaci di improvviso non si abbiano sconforti per le prime sconfitte non superbie per le prime vittorie le prime sconfitte servono a fare meglio un'altra volta le prime vittorie servono ad essere sprune a fare ancora meglio in futuro e a persuadersi che Dio aiuta le buone volontà ma vedete che sapienza che c'è nostro Signore vedete anche la bellezza dell'opera di Maria Valtorta cioè io penso che sentendo queste cose si capisce che non può essere nessun altro che Gesù ad aver detto una roba del genere solo che nei Vangeli dove c'è questa sapienza però non c'è come dire questa questa profusione no? quindi questa 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 ampiezza no? San Giovanni stesso dice se dovessimo scrivere tutte le cose che Gesù ha detto ha fatto non basterebbe le libri della terra per essere contenuti no? è inutile cominciare a dire cioè nei Vangeli è stato scritto quello che era necessario ed essenziale per maturare la fede in Cristo Gesù e per avere un'idea completa del suo insegnamento e basta certo però che approfondimenti di questo genere sono molto edificanti ecco perché ho sempre suggerito e suggerisco a tutti la lettura dell'opera di Maria Valtorta non si legge questa opera rimanendo gli stessi di prima ve lo dico prosegue Gesù siate sempre soggetti ai pastori in quel che è obbedienza ai loro consigli e ordine siate sempre a loro sorelle in quello che aiuto nella missione e sostegno alle loro fatiche dite questo anche a quelle che oggi non sono qui presenti ditelo a quelle che verranno in futuro ruolo della donna delle sante donne nei confronti dei ministri primo essere soggetti ai pastori attenzione in quel che è ubbidienza ai loro consigli e ordini perché i pastori danno consigli e a volte danno anche ordini e quelle cose vanno messe in pratica però i pastori hanno anche bisogno di essere aiutati e sostenuti aiutati nella missione sostenuti nelle fatiche e le sante donne sono gli aiuti e i sostegni migliori devono avere tutti e due questi questi requisiti e qui ovviamente io mi taccio perché anche qui potrei wow difficile trovarli entrambi compresenti e purificati diciamo così da ogni accidente o inquinamento malsano non aggiungo altro e ora è sempre siate come figlia per mia madre ella vi guiderà ogni cosa può guidare le fanciulle come le vedove le mogli come le madri avendo ella conosciuta tutte le conseguenze di tutti gli stati per esperienza propria oltre che per statienza soprannaturale forse non ci avete mai pensato ma la madonna ha conosciuto tutti gli stati di vita e tutte le vocazioni da bambina è stata nel tempio nel tempio ha fatto la suora di clausura e ha fatto per prima il voto di virginità quindi la vita consacrata e virginale nessuno la conosce meglio direi esempio di monache suore virgini consacrate in tutte dopodiché è uscita dal tempio perché il sacerdote le ha ordinato di andare in sposa e là era obbedito esce dal tempio ed è stata sposa è vissuta nel mondo in una vita che oggi chiameremmo laicale quindi esce dal monastero e si precipita e torna a Nazareth a fare la donna di casa i lavori che faceva una donna in casa a quei tempi fare il pane fare le vesti curare l'orto cucinare tenere l'ortino la casa accudire il marito il figlio il marito lo sposo non si dice il marito e dopo che è successo e dopo è rimasta vedova e Gesù se n'è andato e lei si è ritrovata sola in casa quindi vedova innanzitutto perché San Giuseppe era morto e di nuovo sola con Dio ma in un contesto diverso dal tempio stava da sola dentro casa quante donne come dire per tante circostanze perché per errori fatti a un certo punto sentono il desiderio di vivere caste però magari non è più ora o anche se lo hanno fatto prima non hanno la vocazione ad entrare in monastero la Madonna ha vissuto anche questo poi durante quegli anni ogni tanto usciva perché Gesù la chiamava quindi usciva dalla sua come dire dalla sua tranquilla dimora e affrontava come dire le conseguenze della vita apostolica i disagi anche della vita apostolica dopo ancora Gesù è asceso dal cielo e lui ha fatto questa offerta e ha dovuto mettersi a fare la madre la maestra e la regina della chiesa il sostegno veramente degli apostoli e l'aiuto alla loro missione quindi le conosce tutte è stata vergine è stata sposa è stata madre è stata vedova è stata discepola è stata preposta come prima maestra e sostegno alla chiesa primitiva all'opera apostolica tutto sa e quindi tutti può aiutare amatevi e amatemi in maria non fallirete mai perché era l'albero della vita la vivente arca di dio eccola qui la forma di dio la forma di dio vedete in cui la sapienza si fece una sede e la grazia si fece carne qui gesù usa l'espressione forma di dio che è la stessa una delle espressioni più care a san luigi merito non da mofort quando spiega il valore della vera devozione e a tutta quanta la grande letteratura mariana maria forma dei si dice in latino qual è che ha dato la forma umana a dio ed ora che ho parlato in generale ora che vi ho vedute desidero ascoltare le mie discevole e quelle che sono le speranze delle discevole future andate io resto qui quelle fra voi che hanno da parlarmi vengano perché non avremo mai più un momento di intima pace simile a questo adesso Gesù passa la direzione spirituale e personale vedete le donne si consultano fra loro Elisa esce insieme a Maria e Maria di Cleofe Maria di Lazzaro ascolta Plautina che la vuole persuadere a qualche cosa ma pare che Maria non voglia perché ha recisi scenni di Diniago e poi se ne va lasciando in assolazione dell'ocutrice e nel passare prende con sé sua sorella e Susanna dicendo noi avremo tempo di parlargli lasciamo queste che devono tornare via qui con voi escono lentamente tutte e poi una alla volta rientrano per parlare separatamente con Gesù direzione spirituale e con questo concludiamo questa bellissima a mio avviso puntata dove abbiamo conosciuto l'eroismo quindi la solidità della fede di Maria di Magdala e abbiamo avuto anche un bellissimo spaccato della straordinaria sapienza del nostro divino maestro nel formare questo primo gruppo di discepole che sarebbe stato l'antisignano ecco delle molte sante donne viventi nella chiesa in particolare quelle destinate ad essere in qualche modo vicine e compagne tra virgolette ecco nella azione apostolica di coloro che hanno ricevuto dal Signore il compito appunto di edificare far crescere e nutrire la chiesa Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre vi protegga siamo lodati Gesù e Maria